ore 16, auto commisurazione, 16 e 30, fissare il muro, ore 17, risolvere la fame nel mondo e non dirlo a nessuno, 17 e 30, ginnastica, 18 e 30, cena con me, questo non lo posso rimandare ancora, ore 19, lottare contro il disprezzo per me stesso, l'agenda è piena